Ermal Meta ad Amici 2018 Serale La sorpresa di Giuseppe sorpresa per Ermal Meta nel corso della quinta puntata dalla 500 alla 1 Amici 2018 Serale. Il giudice duetta con Einar Ortiz sulle note di vietato morire ma, ad un certo punto, in studio fa Capolino Giuseppe. Il giurato si emoziona, visibilmente, a tal punto che non riesce a proseguire con l'esibizione. Niente paura, però. A portare a termine la canzone è lo stesso Giuseppe che canta in diretta TV insieme al concorrente della squadra Blue.Amici 2017 Serale Il piccolo Giuseppe ha già cantato con Ermal Meta a fine esibizione. Ermal Meta spiega che non è la prima volta che si esibisce con Giuseppe, suo fan. Il giurato racconta della comune esperienza vissuta durante il suo concerto live al Forum di Assago, dove il bambino, di 8 anni, si è esibito con il cantante davanti a circa 10.000 persone. Da qui l'idea di Maria De Filippi di invitare il piccolo in studio ad Amici 2017 Serale e di fare una sorpresa al giudice della commissione esterna di quest'anno. Punto la storia di Giuseppe, bambino fenomeno che ha stregato Ermal Meta ai federissimi di Ermal Meta, però, la storia di Giuseppe è già nota. Punto il bambino, della provincia di Catanzaro, aveva pubblicato un video in cui intunava non mi avete fatto niente. Il TG2 aveva rintracciato il bimbo fenomeno e quindi Meta, tramite un post su Twitter, lo aveva invitato ad esibirsi insieme a lui. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS